Per le persone cieche, localizzare e identificare un oggetto può rivelarsi un compito difficile. Una squadra di scienziati negli Stati Uniti da un paio d'anni lavora a una mano robotica che può aiutare a vedere. L'helping hand, uno strumento a forma di guanto, pronuncia il nome dell'oggetto dopo averlo riconosciuto. In precedenza l'oggetto è stato etichettato e associato a un file audio che ne identifica natura e contenuto. Un modo per personalizzare questo prodotto è innanzitutto etichettare i diversi oggetti che ci sono familiari. Si può trattare di un medicinale o di diversi tipi di bibite o di barattoli chiusi. Si affiggono le etichette a ciascuno di questi oggetti. L'idea è nata dalla necessità di aiutare i veterani di guerra, che hanno perso in parte o totalmente la vista. Negli Stati Uniti il loro numero è in aumento, visto l'impegno nei conflitti in Afghanistan e Iraq. L'uso pratico di questa mano può essere compiuto quando si fa spesa. Molti negozi etichettano già i loro prodotti con l'identificazione a radiofrequenza, una cosa che può essere facilmente utilizzata dai non vedenti. Lo strumento costa circa 45 euro, un prezzo relativamente basso, che lo rende alla portata di un vasto numero di persone. La squadra di Lawson sta già lavorando al lancio sul mercato, probabilmente nel 2012.